Ed eccoci di nuovo insieme, come anticipato, parliamo di arte, perché mi ha raggiunta in studio Pietro Vibrino. Benvenuto. Grazie, grazie per l'opportunità data. Ecco, ringrazio anche il signor Zeno. Eh sì, l'amico che abbiamo in comune, Zeno Focus, che mi ha dato l'opportunità davvero di conoscere un'arte prima a me sconosciuta, un'arte straordinaria e direi davvero unica, perché il signor Pietro lavora la pietra, ci sarà un destino nel suo nome. E qui ci ha portato due delle sue opere, che sono, mi sposto, scusate perché le copro, davvero straordinarie. Alcuni posti della nostra bellissima città, l'Arena di Verona, e poi qui invece cosa abbiamo? Ponte Pietra. No, questo qua invece è l'Eremo di Santa Caterina del Sasso. Ah, ok, quindi scorci di paesaggi, di città straordinarie. Ma partiamo Pietro da raccontare la sua storia, dove è nata questa passione? Allora, innanzitutto io provengo, sono un trappiantato veronese. Arriva da? Da provincia di Benevento. Da Benevento. Da provincia di Benevento, il Morcone esattamente. Ok. Ecco, sono venuto qua per fare un corso di enologia. Ah, quindi, il mondo del vino. Di conseguenza, finito il corso, praticamente Verona mi è subito entrata nel cuore e ho voluto rimanere. Io provengo praticamente anche da una famiglia di artigiani, perciò questo mi ha permesso molto di avere quella po' di manualità. È indispensabile. Mi trasmettano. Dopo l'arte per me è sempre stato il mio pallino, voglio dire, mi piaceva fare dei schizzi fin da piccolino, mi piace lavorare in legno, però non ho mai potuto curarlo, diciamo. Fino in fondo e con molta cura, perché chiaramente serve molto tempo. Sì, certamente. E quindi la svolta è arrivata quando è andato in pensione, praticamente. Sì, ho cominciato prima a dire la verità, però prima di questo non avevo molta possibilità di andare in giro e di conseguenza dopo ho trovato un'associazione che mi ha permesso di girare un po' l'Italia, dal centro nord soprattutto, di fare delle manifestazioni anche medievali. E mi sono trovato praticamente in questi borghi caratteristici che mi sono entrati un po' nell'animo, voglio dire, no? E allora il mio presidente mi diceva, ma perché non fai qualche scorcio di dove andiamo, di dove… e ho cominciato così scherzando e avendo già un po' la manualità ho cominciato a fare queste opere un po' diverse, cioè fa parte della famiglia del mosaico, però comunque non è un mosaico. Ho voluto dare un mio nome che è una pietra in rilievo ad effetto prospettico, in poche parole. La pietra è in rilievo ad effetto prospettico, beh, rende l'idea perché effettivamente sono tutti in rilievo questi quadri. Perché poi effettivamente sono in rilievo la pietra. Esatto, esatto, e un lavoro davvero straordinario, come dicevo prima, unico, anche perché signor Pietro mi dice che non ha ancora trovato un artista che utilizza la stessa tecnica in Italia. Ci sono magari diversi, perché questa è proprio una mia tecnica e di conseguenza non ne sento affatto neanche una scuola. Quindi è autodidatta. Sì, autodidatta, di conseguenza è la mia espressione, insomma, ecco. L'espressione della sua arte e del suo talento. Un po' i miei hobby perché lavoro il legno, mi faccio lo schizzo, mi faccio la sagoma del quadro perché in quel modo lì io ho meno possibilità di sbagliare e in quel caso lì guardo i vari rilievi se sono attinenti a quello che devo andare a costruire. E di conseguenza dopo ho avuto a rivestire il tutto. Non metto tutta pietra, faccio una sagoma sotto con un prodotto molto più leggero. Ok. Ecco. Stiamo vedendo in onda delle immagini davvero straordinarie di Verona che senza ombra di dubbio è stata di grande ispirazione per lei. Certamente sono opere che mi rimangono proprio nel cuore anche perché un'opera non è che si fa in un giorno. E quanto tempo ci vuole indicativamente? Allora, indicativamente un quadro del 60 per 80, diciamo se non troppo complicato, ci vuole sempre dalle 40-50 ore. Ora ho realizzato più di 440 quadri, di conseguenza ho abbastanza un po' di esperienza al riguardo e perciò metto molto meno. Dopo mi sono attrezzato come tutte le cose, quanto si ha una passione, si ha l'idea diciamo di quello che si fa, ma logicamente si migliora giorno dopo giorno anche perché quando c'è la passione si realizza sempre con cuore tutto. E la sua passione si vede perché le brillano gli occhi quando parla di quest'arte straordinaria. Quando i miei clienti apprezzano le mie opere rimango sorpreso anche perché facendo una cosa col proprio animo, con la propria passione e piace anche, perciò questo mi riempie di orgoglio. Ha ragione, ha ragione. Quindi le vengono anche commissionate delle opere? Ultimi anni, devo dire dopo la crisi, voglio dire, normalmente lavoro molto su ordinazione. Logicamente le mie opere sono tutte dei primi piani perché logicamente con la pietra non si può fare il paesaggio. Tanti mi dicono perché non mi fai Piazza Erbe, non la faccio Piazza Erbe perché se è presa il tutto non dà una bella visibilità anche perché ci sono finestre, porte, perciò essendo in rilievo viene una confusione. Anche perché cura davvero tutti i minimi dettagli. Io ho fatto Ponte Pietra che le sta il mio fiore all'occhiello, mi ho fatto addirittura 48 Ponte Pietra. Diversioni diverse. Sì, solo Verona hanno acquistato 38 Ponte Pietra. Quindi un successore. Un successore. Ponte Pietra per me è il mio cuore perché veramente e dopo anche Verona perché Verona per me mi ha dato la possibilità di esprimermi anche su questa tecnica. Anche perché Verona vento la pietra a sfoglie, non troppo ciottolosa diciamo in parole povere perché se vai in certe parti dell'Italia la pietra può essere anche con sfaccettature belle però un po' dura, un po'. Invece Verona c'è la sfoglia e questa sfoglia mi ha permesso molto di andare incontro a questa mia tecnica. Quindi di lavorarla al meglio. Al meglio, certamente. Per un pezzo di pietra lei parte e realizza queste opere straordinarie. Sì, sì, signore che viene mi porta una foto, anche attraverso delle foto io realizzo il tutto insomma. Quindi, il ingrediente principale e iniziale è sicuramente la pietra. Però poi da lì c'è tutta una lavorazione molto impegnativa, diceva che c'è legno, utilizza anche altri materiali più leggeri, anche perché se poi vanno appese ad un muro, insomma, giustamente, devono essere troppo pesanti. No, poi le mie opere peseranno, andiamo di media così, sugli 10 chili, ecco, dopo dipende da delle dimensioni perché anche, diciamo, la parte di base, se io realizzo un ponte pietra della grandezza di un metro e cinquanta, un metro e ottanta, logicamente anche lo spessore del legno deve essere superiore. Beh, è chiaro. Ecco, perché dovete ottenere più peso. Ma come riesce a realizzare tutti questi micro dettagli che davvero richiedono, immagino, un lavoro molto valutoso? Praticamente è un insieme di pietre, di vari pietre che cerco il materiale, lo vado a cercarmelo personalmente, capito? È pietra naturale, non compro niente, compro solo il legno e i sfizi di cornice, perché logicamente la cornice tradizionale non si adatta ai miei quadri, perché io poi quando ho le dimensioni del quadro metto dei listelli iniziali e vado a fare l'immagine. Di conseguenza dopo vado a fare la sagoma del disegno e dopo vado, come dicevo, a riempire il tutto. Dopo aver riempito il tutto, con un drammer, praticamente con dei meccanismi a livello, diciamo, di tipo dentistico, per capirsi. Ok, quindi vado a ritoccare, a fare dei tagli, vado a squadrare, dove avendo usato, diciamo, la pietra naturale, non sempre è tutto a squadra e dopo vado a spazzolare, pulire e dopo come termine vado a dare un nitropellente. Un nitropellente? Sì, che è un prodotto che non fa pellicola, penetra all'interno, diciamo, del prodotto per stabilizzarlo nel tempo. Utilizza anche dei colori però, giusto? I colori, non uso colori, uso, cioè uso i colori però uso, sono delle terre. Ah ok, quindi anche quelle naturali. Anche il cielo, l'acqua, viene fatto tutto a base di polvere di marmo, che è a base di resina anche, uso ossido e praticamente colla per pavimenti, per impastare il tutto. E così vado a fare anche il verde, in quel sistema lì, sempre con polvere di marmo, granulare, di vario tipo, e vado a costruire, insomma, quello che è, effetti l'immagine del quadro, insomma. Davvero la natura che ci regala poi dei materiali preziosi, importantissimi, che vengono lavorati dalla mano, dalla sua mano e ci regalano delle emozioni straordinarie. Io usavo, mi ha aiutato molto facendo i presepi, perché da piccolino… Perché hai partito con i presepi, giusto? Esatto, perché i miei figli dicevano, papà, perché tu hai la manualità, perché non mi fai il presepio? E ho provato mille prodotti, cioè tutti i materiali possibili. Questo mi ha aiutato molto nella manualità, in poche parole. Pietro, davvero, prego, prego. Però il presepio occupa posto, non si ha… cioè, acquisti non riuscivo… cioè, ne fai uno, ne fai due, ne fai tre, riempi il locale e di conseguenza non hai nessun riscontro alla fine. E allora, quando ho cominciato a usare il prodotto della pietra, proprio mi è entrata nell'animo, insomma. Ecco, anche perché provengo da un paese arroccato su una roccia. Quindi davvero era un destino disegnato… Può darsi che mi porto dietro qualcosa, ecco, dopo. Pietro, lavora la pietra, realizza il ponte pietra… Sì, è davvero, tutto torna. Pietro Di Brino, grazie davvero per essere stato con noi. Il tempo è volato, complimenti per il suo talento e quest'arte unica, l'abbiamo detto, che ci ha presentato oggi. Vi ricordiamo che ha un sito internet, quindi potete cercarlo online se volete mettervi in contatto con lui. Grazie ancora, Pietro Di Brino. La ringrazio anche a lei. Alla prossima. Buone cose. Grazie anche a tutti voi per averci seguito. Per oggi è tutto, sei a casa, torna domani. Grazie. 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 Grazie.